Sì, è il giorno della paga! Questi soldi sono tutti miei fino al prossimo mese! È il giorno della paga! Oh, ecco il 25% della mia paga! È il giorno della paga anche per me! Sì, non posso dimenticarmi di te! Ecco il 20%! Ehi, anche a me! Non devi assolutamente dimenticarti! Il 10% per te e un altro 20% per mangiare fuori! Oh, io ho quasi dimenticato la lista delle cose che voglio comprare con i saldi nel mio negozio preferito! Ti stai di nuovo dimenticando di me? Oh, scusa, tutto finito! Provederò il prossimo mese! Sì, è il giorno della paga! Sembra che il 30% sia andato automaticamente nella mia attività digitale! Non dimenticare di me! Anche di me! Anche di me! Non preoccupatevi! Ho abbastanza soldi anche per voi! E una volta che vi avrò pagato tutti, avrò ancora abbastanza soldi per i miei desideri! E per tenermi felice! Non dimenticare di seguirmi per saperne di più! Non dimenticare di più!